Questa sera usciamo vincenti da questo confronto con Peschiera per 3 a 1, devo dire che è stata una partita un po' strana per i dati perché abbiamo avuto delle percentuali in ricezione veramente altissime, quindi complimenti a tutto il reparto sul primo tocco, ma con una qualità sul cambio palla, insomma non all'altezza della ricezione, questo è un dato che ci fa un po' riflettere, devo dire che il primo set è andato via un po' alla pari fino agli ultimi punti, poi siamo stati bravi noi a spuntarla, il secondo set invece è stato un set un po' più facile per noi, devo dire che abbiamo mantenuto una buona capacità in battuta mettendo quasi sempre in difficoltà il loro reparto in ricezione e pertanto loro erano quasi sempre obbligati ad un gioco abbastanza scontato e quindi questo facilitava un po' noi sulla rigiocata, il contrattacco di difesa. Il terzo set è il set che mi ha lasciato molto la mano in bocca perché loro comunque sono partiti con una formazione errata, il che inizialmente le ha messe molto in difficoltà regalandoci alcuni punti in fallo di posizione e nonostante nell'arco del set ci avevano dato 4-5 punti, in tal senso non siamo riusciti a portarci a casa del set, siamo andati ancora più in confusione noi perché chiaramente di là non era una formazione regolare, pertanto tutta l'anticipazione di muro di difesa era un po', noi avevamo praticamente a reagire un po' sul palleggiatore, però anche qua penso che sia stato più che altro mollare un po' di testa perché si pensava che fosse ormai fatta e questo è una cosa sulla quale dobbiamo lavorare perché comunque non si può non rimanere sul pezzo. Poi devo dire che il terzo set loro hanno guadagnato molta fiducia e anche qui siamo andati un po' a punto a punto, un po' a strappone, siamo partiti via un po' noi, poi ci hanno raggiunto, poi ci siamo staccati ancora, ci hanno raggiunto di nuovo e poi alla fine siamo stati molto bravi e devo fare i complimenti comunque a Di Giulio che l'ho messa alla fine in battuta, è riuscita a mantenere il servizio dove doveva e praticamente gli ultimi quattro punti li abbiamo chiusi con lei in campo e quindi complimenti a tutta la squadra, sono veramente contento perché questa non era una partita assolutamente facile, di là c'era una squadra che a me piace tantissimo, una squadra che reagisce cattiva, determinata e il saper vincere contro di loro dimostra che comunque poi nonostante diciamo l'apparenza del terzo set siamo stati molto bravi.